Benvenuti all'ascolto di Radio Giano Public History Questo programma è condotto da Paolo, architetto e accompagnatore turistico che ha vissuto più di 25 anni in Giappone e da Miyabi, radio DJ e public speaking coach. Il programma è in italiano e giapponese. Questo programma è in Italia che ha vissuto anche già dopo il 25 anni. L'italiano Paolo e il radio DJ e il pubblic speaking coach. Il programma è in Italia in Giappone e in Japan. Il programma è iniziato anche oggi. In settembre sono succesi, ancora succederanno alcune cose, visto che non è finito. ma iro iro uo uo kina i vento va a atta kedomo mazua l'ai resu kara nihon ryokou ya to kai kin desu o medetou finalmente dal mese prossimo si potra ritornare in giappone senza nessuna restrizione finalmente il giappone ha capito che deve aprire tutto chiunque potra andare in giappone come prima, come turista e come senza visto so, so, ya to ne, mae doori ni cojin de ikeru yon ni nata zo mou, giunbi中 de minna wak 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 finalmente adesso saremo tutti a prepararci per andare in giappone l'an mese prossimo per qualsiasi cosa rivolgetevi a noi ne, e maa, moっと ookina news non te ne, ya pari,すごく italia kara wa chikaku de, maelisabes joo hei kara naku naru in questo mese è successo un fatto che ha colpito tutto il mondo cioè la scomparsa della regina d'inghilterra vedendo qui in italia praticamente 24 ore al giorno notizie dall'inghilterra ci siamo chiesti anche come poter essere vista questa notizia in giappone ne, nippon de, iro iro kou hanno ga a te, ma tennoheka mo go sanretu sa letta non da che do mo, ci si non sono chiesti anche come poter essere uscate, ci sono chiesti anche come poter essere eh già tra tutti i capi di governo eccetera che sono andate in Inghilterra ci è stato anche l'imperatore giapponeese con la moglie purtroppo devo dire che sentendo un commento alla radio, alla televisione officali italiana sono state dette due grosse imprecisioni 天皇陛下を葬式に列席してはいけないというふうにまずあって 列席できないわけではなくて 今までに慣例としてあまりなかったということを後退し 殿下が出られることは多かったけれど 天皇陛下がお二人で出られるということは珍しい でもダメなわけではなく閣議決定が必要であるということで ダメというのはちょっと違うかなと思ったのと あと3日間日本全体がモニフクしますというのもあって それも一応私何人か確認しましたけれど そういうお出しはあったので みんなの心の中でやっぱり関心を持って 番組関連のNHKの番組をご覧になった方もいらっしゃるとは思うけれども 日本全国モニフクするというのはちょっと違うコメントかなとは思いました Allora, i commenti sono stati fatti, queste due grosse imprecisioni uno è stato affermato che l'imperatore ufficialmente non può andare ai funerali il che non è vero cioè l'imperatore non è che va a tutti i funerali quando lui decide di poter andare a un funerale ci va è andato fino ad Inghilterra quindi questa prima notizia falsa l'imperatore non ha nessun divieto di presenziare ai funerali di chiunque alta in precisione è stato affermato che in Giappone sono stati programmati tre giorni di lutto nazionale per la regina d'Inghilterra altra cosa completamente falsa in Giappone non come in Italia il programma dal vivo con collegamento diretto dall'Inghilterra è durato soltanto 20 minuti in totale e sulla televisione a pagamento quindi possiamo immaginare come potrebbero mettere tre giorni addirittura di lutto nazionale in Giappone queste sono le notizie di qualcuno che in Italia pensa di sapere tutto sul Giappone senza informarsi ma ciori mo' alu kara ne ma nippon no wadai ga so'yte dite kita te yu no wa su goku uresii tokoro dewa arimashita dai u kaji kana tena kongkai mo' to iro nna tema de tsuzukete hanashi o shite gokana to omou no de dewa koko de ongaku o u kiki kudasai ok allora passiamo alla seconda parte magari parliamo di cose un poco più divertenti di questa e quindi un piccolo stacco musicale sei all'ascolto di Radio Giano Public History e quindi un po' e quindi un po' e quindi un po' part two to yukotode nippon go to italiago te igaito niteru kotoba ga Paolo iro iro aru yone e già oggi non iniziamo ufficialmente diciamo lezioni di giapponese o lezioni di italiano per giapponesi ma vogliamo propriamente introdurre alcune parole sia italiane che giapponesi che si somigliano nel senso magari si somiglia come suono ma il significato comprende differente oppure qualche volta hanno anche lo stesso significato qualcosa di simile come per esempio magro 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 te 言われる 最初 yogurt magro te 最初 nel 日本 magro te kikku to o sushi no zairo tuna da ne magro in giapponese significa tonno quindi se vogliamo dire un tonno magro potrebbe essere un maguro tonno magro magro può essere kokode kokode in italiano sappiamo cosa significa quando la gallina fa l'uovo ma in giapponese significa qui A timeframe A A A sta come l' Sarri icepona k k e In giapponese la V e la B sono quasi simili Quindi il nostro Bye Bye Potrebbe significare Bye Bye In inglese che è usato in giapponese Sayonara Noi mi naro Come? 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 Come ne? Come in giapponese significa riso Come il riso Come il riso Come il riso Come il riso Ma doっちも美味しそうだけど Dai 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 In giapponese significa grande In italiano quando dice dai 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 Hey come on Te canji da ne Niponese da to Occhi Sono ma ma Esatto Muda ma da Wadda 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 ne Muri Muri ne Muri Walls In giapponese In giapponese Muri significa impossibile Quindi possiamo avere dei muri impossibili Tanto 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 Per esempio, Yakuza, kimono, sushi, naturalmente, edamame, edamame, edamame. E anche al supermercato. Sono tipo fave, giapponese. Banzai? Tanto tempo fa c'era un programma, televisione, mai dire Banzai. Banzai significa viva Poi un altro magari è siamo proprio in stagione Kaki Anche in giapponese si dice Kaki Però noi in italiano Kaki sono due Kaki Uno è un Kako Kako è in nipongo, quindi un Kako è in nipongo, quindi un Kako è in nipongo, quindi un Kako è in nipongo Forse Kako in giapponese significa passato, come il tempo passato Sì, è in nipongo, quindi un Kako è in nipongo, quindi un Kako è in nipongo Sì Sì, c'è qui vengono dall'Oriente quindi そっかそっか 聴いてらっしゃる方の中には イタリア語は2個から形が変わりますよ っていうのをご存じない方も いらっしゃるかもしれないので 一応言っとくと 1個だと過去になってしまいます という感じだね これもいろいろあって面白いので まだ続きができたらいいなと思うんだけども リスナーさんで こんなになったよとか そっかそっか 聴いてらっしゃる方の中には イタリア語は2個から形が変わりますよ っていうのをご存じない方も いらっしゃるかもしれないので 一応言っとくと 1個だと過去になってしまいます という感じだね これもいろいろあって面白いので まだ続きができたらいいなと思うんだけども リスナーさんで こんなになったよとか 私たちいつも話してるときは 出てくるんだけど なかなかこう考えると出ないのでね 教えてください 聞いてください ちょっとクリスピーなお菓子 イタリア語だと モナカは人なのね モナカは シュードウジョ アマサンのことですか イタリア語だと イタリア語だと おもしろいね まだまだ続きそうだけどね このコーナーね そうですね 今回はこの辺かな じゃあもう一曲 また音楽を お送りしようかな と思います ok passiamo al prossimo stacco musicale とりあえず とりあえずに とりあえずに ご視聴ありがとうございました とりあえずに ご視聴ありがとうございました Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Per esempio, può essere, dove è il bagno? Come si dice in giapponese? Un'altra, dove è la fermata dell'autobus? In Italia, per chiedere dove è il bagno, forse ci sono anche altri modi di chiedere, per esempio, posso usare il bagno? Anche perché in Italia, spesso, soprattutto nei caffè o nei bar, a volte non te lo fanno sale dicendo che è fuori uso. Grazie a tutti. Se volete imparare il giapponese di più, chiedete a Fumiko, lei è disposta a insegnare il giapponese, sia di persona qui a Roma o online, in tutta Italia. Anche in inglese, in italiano, in inglese forse è meglio per lei. Grazie a tutti. In italiano, diciamo, auguri, buon compleanno. Happy birthday. Plus, plus, in attenzione. Auguri. And plus, something. Che c'è? Non c'è? Come ognuno? Una volta? Un c'è? Un c'è? Un c'è? Un c'è? Un c'è? In Italia a volte diciamo anche cento di questi anni Se volete intervenire in questo programma Magari mandare gli auguri di compleanno in giapponese A vostro amico, amica, moglie, marito, fidanzato, fidanzata, eccetera A vostro amico mandare i vostri auguri in giapponese So, listener-sanで Iタリア語で素敵なメッセージを送りたいな こんなことをスペシャルに言ってみたいな っていう場合はね この番組にお問い合わせください そしたらお手伝いします 日本語で言ってみたいという方もね 日本語で言ってみたいという方 今私日本語で喋ってるの聞けるから 作れるかもしれないけど そういう方もお手伝いできるので ぜひぜひお問い合わせください そう,そして Paoloね イタリア語で いろんな素敵な言葉があるそうなので お作りします お問い合わせください そして Allora, per ultimo vogliamo parvenir la conoscenza i nostri ascoltatori dei film gratuiti presso appunto l'instituto questa è in occasione dell'ottantesimo anniversario dell'amicizia tra l'ambasciata giapponese dell'ambasciata del vaticano ぜひ行かれてみてください はい adesso l'instituto giapponese c'è la mostra sul sushi I love sushi è molto interessante siamo stati a vederla veramente molto interessante vale la pena andare a vedere inoltre appunto questa rassegna di film che è cominciata ieri durerà fino alla fine di ottobre sono film giapponesi gratuiti con sottotitoli in italiano e anche in inglese quindi non ci sono problemi di lingua se volete andare a vedere l'instituto giapponese di cultura sapete tutti dov'è 面白かったよね この番組では いろんなイベントの情報も これからお伝えしていこうと思います da questa puntata in poi cercheremo di farvi venire a conoscenza di eventuali eventi sul giappone non solo a Roma magari in tutta Italia そうそう イタリアのね いろんなイベント ローマももちろんだけれど なので情報をお持ちの方で こんなの写真したい ということは お問い合わせください それもお知らせください se anche voi avete qualche evento sul giappone che conoscete o volete far venire a conoscenza fate lo short sapere e noi viveremo un po' diciamo di pubblicità qui da noi この番組ね いろんな方が 聞いてくださってるんだけど なんと インドからも リスナーさんが 最近いらっしゃるんですって sembra che abbiamo ascoltatori anche dall'India quindi gente che magari non capisce bene sia il giapponese che l'italiano quindi adesso poi aggiungeremo qualche breve frase diciamo anche in inglese questo è un program Grazie mille e arrivederci! Grazie mille e arrivederci!